ad ogni esperimento nuovo il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g a cura di vb tommaso dovresti avere imparato a non reagire con timore ad ogni esperimento nuovo teresa poiché sai che ci sono io a proteggerti e sono sempre io a chiudere ogni tipo di manifestazione anche inaspettatamente se ritengo sia opportuno farlo qualora si presenti un certo margine di rischio non devi meravigliarti della celerità dell'accadimento di queste cose ricordando che già sei stata avvertita del nostro lavoro per aiutarti a sviluppare sempre di più le tue facoltà e quelle di altri desideriamo infatti portarvi all'optimum affinché molto di più possiate dare e molto di più possiate ricevere e il nostro primo disegno è quello di condurvi tutti in tanti bellissimi viaggi astrali sempre sperando che non ci deludiate nuovamente uno brevissimo il tuo primo in stato di lucidità e coscienza è stato quello che ci ha portato in austria ed in spagna ma in seguito ti è stata promessa la rivisitazione di un vissuto spirituale ed è appunto ciò che ti aiuterò a compiere quest'oggi preparati dunque ad un altro viaggio assai più importante ma adotteremo una modalità diversa in modo da evitarti la scrittura per automatismo alquanto dispendiosa sarà tutto semplificato vedrai pensieri e visioni domande e risposte li riverserai direttamente sul foglio come in un comune dialogo in un viaggio qualsiasi sei pronta maria teresa g come di già tommaso hai ancora paura ma brava davvero nutri una grande fiducia in me teresa ho paura di non riuscire a ritornare qui tommaso rimpiangeresti tanto la vita che stai conducendo teresa rimpiangerei tanto i miei figli tommaso si tratterebbe di un rimpianto transitorio credimi più duro da superare per tutti e il rimorso del male compiuto e del bene non fatto su forza cosa vedi e cosa senti sento che sto navigando nello spazio siamo già tanto lontani scorgo la terra proprio come appare nei documentari ma sta velocemente allontanandosi tommaso riesce a vedere a capire se hai un corpo hai braccia hai gambe teresa no mi pare di no ho la sensazione di essere sferica di essere diventata una specie di palla o forse di essere solo pensiero dio sono o non sono più eppure posso vedere pensare muovermi tommaso sei spirito il resto lo hai abbandonato momentaneamente nella dimensione di prima teresa è questo il vostro essere sensazioni e null'altro tommaso è molto di più ma tu non puoi calarti completamente in noi perché sei comunque limitata dal tuo legame fisico ecco è come se tu fossi appesa ad un guinzaglio una catena non vedi il tuo corpo materiale seduto in un angolo della cucinetta mi senti teresa teresa a malapena sono ubriaca anestetizzata e vedo anche tutto confusamente in sovrapposizione senza un filologico sono al di fuori di ogni realtà ecco come sono e come mi sento tommaso sei nella vera realtà quella che conosci che credi tua eppure illusione accreata dalla fisicità teresa cos'è questa sala in quale ambiente ci troviamo tommaso anche questo è un sito creato dal tuo immaginario dalla tua volontà teresa e tutta questa marea di gente parla ma senza brusio eco sonorità tommaso questo è il nostro modo di comunicare in un linguaggio universale in assenza di un apparato fonetico le parole si traducono in pensiero ti sembra di riconoscere qualcuno fra la moltitudine teresa mamma e papà eccoli ma sono più giovani molto più giovani e là in fondo scorgo degli amici giovanni di tolfa alberto e paolo adriana una collega e carolina quella che abitava nel nostro palazzo ma cosa stanno facendo perché si sono radonati qui tommaso questa riunione come tu la chiami è una delle tante ricorrenze per ritrovarci scambiarci le singole esperienze ma soprattutto per trasfonderci in un solo atto di adorazione alla nostra sorgente creatrice vedi teresa è proprio in una ricorrenza come questa che tu ed altri vi siete legati in un patto e cioè tornati alla fisicità condividere le esperienze spirituali che state seguendo al fine di acquisire una certa conoscenza molti però hanno abbandonato i nostri cerchi o ci hanno estromesso adducendo i pretesti più vari nessuno poteva obbligarli ad agire diversamente e non spetta a noi giudicare comprendi teresa non lo so non tutto ho in testa una grande confusione tommaso niente potrà esserti completamente chiaro finché sarai nella materia su si ritorna teresa sono ritornata e mi sento una bambola di pezza ho tentato di alzarmi ma le gambe non mi hanno retto sono coperta di sudore ghiacciato e il cuore sembra spaccarsi non sarò alla soglia di un infarto tommaso tranquillizzati fra poco tutto passerà